Tu mi rubi l'anima, ma voi l'aggettivi ama me Io la inseguo e trovo se... Ma che ti sembra un mostro? Guarda che sono a posto Che mi sono perso Ero solo distratto Ma che ti sembra un mostro? L'ho pensato pure in un secondo Due concerti previsti nella stessa serata di domenica 10 settembre a Caltanissetta Una situazione insolita in una città dove non sono frequenti opportunità del genere Insomma ci sarà l'imbarazzo della scelta per i nisseni e non solo Prevista una presenza massiccia anche dai centri vicini Il programma Bella d'estate prevede i collage a Borgo Petilia e contemporaneamente il giovane Gian Maria al centro storico I collage hanno riscosso notevole successo soprattutto tra gli anni 70 e 80 Collezionando anche un prestigioso secondo posto a Sanremo nel 1977 con Tumi, Rubi e l'anima Il genere musicale di riferimento è quello del pop melodico italiano Tra gli altri successi anche Lei non sapeva far l'amore Sole rosso, La gente parla, Un'altra estate e Donna musica Gian Maria che annovera migliaia di fan in Sicilia è nato a Vicenza nel 2002 E si è guadagnato la ribalta con Mostro all'ultima edizione del festival di Sanremo Tornando a Bella d'estate il giorno prima sabato 9 settembre Toti e Totino sempre al Borgo e Leo Gasman in centro E nello stesso fine settimana anche la 68esima edizione della Coppa Nissena e il trofeo Calat